l'esperimento di bene vedo lo zucchero ma io ve la concevo allora 20 grammi di poi invece dobbiamo metterci 5 grammi di bicarbonato a me ok mandi questo chi ha tutti e due in un re di mettilo questo nel bicchiere di te insieme così insieme fatto il scienziato? si ok mettiamo da mezzo questo mettiamo questo qua ora spirito alcol io lo metto io 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 lo metti tu allora questo qua deve stare tutto intorno a qua ti vai devi bagnare tu vai vai premo si non tantissimo ci siamo? si metti questo al centro qua tutta la montagna in là vai solo al centro ci siamo? si attenzione attenzione via le fiamme è per te ma è adesso uscirà bene attenzione attenzione non a le f – No, no, no. Grazie a tutti. 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 Basta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Venom.